Sono davvero tanti e li ringrazio di cuore i docenti che mi scrivono per chiedermi se possono usare i miei 140 secondi di storie di sport come strumento didattico per insegnare la loro disciplina che spesso va anche oltre l'educazione fisica. Beh, intanto la risposta è certamente sì, anzi non dovete neanche chiederlo, non sono altro che orgoglioso di questa eventualità, però legittimamente qualcun altro si interroga se sia il caso in questo momento così drammatico di semplicemente raccontare storie di sport. Rispondo con una lettura tratta da un libro di cui sono molto geloso, si intitola Olimpia Olimpia, scritto da Bruno Roghi nel 1960, che racconta di un dialogo scritto da un filosofo sofista, Dione Crisostomo, vissuto fra il 52 e il 117 d.C., che fa dialogare appunto un altro filosofo, Diogene, un cinico, con un atleta che ha appena vinto ai giochi ismici nella disciplina dello stadio. In realtà Diogene è stato cacciato a malo modo dal luogo dei giochi perché si è presentato grottescamente vestito con degli stracci e con una corona in testa a rappresentare la sua vittoria sulle passioni umane. Ma in realtà Diogene è cacciato, si ferma, aspetta il vincitore, l'atleta vincitore dello stadio per incalzarlo in questa maniera. Che cosa ti è successo? Chiede Diogene all'atleta. Ho vinto la gara dello stadio. Tutto qui? Ma io, per Ercole, sono il più veloce di tutti i greci. Ma non più delle lepre e dei cervi, amico mio. E tuttavia questi animali velocissimi sono i più paurosi della creazione. Essi temono gli uomini, i cani, le fiere, le aquile che rendono miserabile la loro vita. Non sai dunque, in calza Diogene, che la velocità è un segno di codardia? In ogni caso Ercole si serviva di un arco per colpire le prede e i nemici che non poteva raggiungere con i piedi. Ma Achille, ribatte l'atleta, era il più veloce. E Omero afferma che fosse anche il più valoroso di tutti. E come puoi tu sapere che Achille fosse veloce? Non è forse stato battuto nella gara dalla tartaruga? E non sai che egli non riuscì a raggiungere Ettore dopo aver corso per un'intera giornata? Non ti vergogni di vantare un'impresa nella quale sei inferiore alle bestie più pusillanimi? E ora dimmi, cosa hai guadagnato con la tua vittoria? Ben poco, mio Diogene, risponde l'atleta. E sta proprio in questo il significato meraviglioso della mia impresa. Beh, sta proprio in questo il significato meraviglioso delle imprese sportive alla faccia di sofisti o di cinici a ricordare che lo sport è, con l'accento, cultura.